Siamo con uno dei proonisti del film di Mirko Livernini, un uomo particolare che ha fatto vedere la sua cattiveria in questo film. Io pensavo che avesse fatto tantissimi altri lavori di questo genere, invece il primo sono rimasta a bocca aperta, sei bravissimo. Grazie, grazie. Questa è stata, devo dire, come ho detto in sala, una bellissima esperienza e ho proprio avuto la sensazione di far parte di una famiglia perché durante ogni ripresa c'era tanta positività, si lavorava proprio in sinergia, c'era proprio tanta voglia di fare e di fare bene ed è un'esperienza che porterò sempre con me. Certo, ma spero che ce ne siano tantissime altre esperienze perché sei veramente bravo e oggi in Italia c'è bisogno di trovare attori come te perché sai non ce ne sono tanti che danno emozioni, magari ci sono bellocci, ci sono quelli che vengono messi giusto per fare bellezza all'interno del film, ma quando serve qualcuno che debba dare emozioni, c'è bisogno di gente come te. Io ti ringrazio per questi complimenti, io sai fare il cattivo in realtà sono una brava persona, non è stato, c'è entrare nella psicologia di un personaggio del genere, sai prima di fare le prove o proprio di iniziare ho cercato di capire il vissuto di una persona del genere per arrivare a fare del male a una persona anziana, debole, quella è stata la parte un po' più complicata, poi dopo le prime scene è andato tutto abbastanza liscio, ma questo grazie a chi avevo intorno e soprattutto grazie a Mirko, Mirko ha una grandissima abilità nel metterti proprio a tuo agio e nel farti uscire quello un po' che hai dentro, quello che richiede il personaggio, questo è un grandissimo, Mirko è una persona che ringrazierò per sempre. Anche noi, veramente una bellissima persona.